Arte con Cast News, mangiare la gioconda del Louvre? Bene, Jeff Bezos può. Perché l'uomo più ricco del mondo dovrebbe poter comprare e poi mangiare l'opera più costata del mondo? E questa è la domanda. I protagonisti di questa folle domanda sono in dato di fatto Jeff Bezos, il CEO di Amazon e l'uomo più ricco del mondo, e la gioconda di Leonardo da Vinci. Qualche settimana fa è partita una petizione su change.org. Piccolo particolare, Bezos potrebbe anche comprarla. Il suo patrimonio supera i 200 miliardi di dollari. Ma attenzione, la tavola di legno su cui Leonardo ha realizzato il ritratto della donna più misteriosa del mondo è completamente ricoperta di vernice a piombo, sostanza altamente tossica se ingerita. Attento Jeff!